Musica Hola 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 a tutti ragazzi ciao bentornati nel secondo episodio del secondo gruppone del clash of friends obiettivi Allora ragazzi odiernamente lo scorso episodio è a 270 mi piace infatti vi ringrazio veramente tanto E vi sfido guardiamo di superare i 250 mi piace appena li superiamo boom butterò il terzo episodio Quindi lasciatemi un mi piace e lasciatemi un commentino con scritto hashtag obiettivi per i prossimi obiettivi per le prossime serie Quindi adesso ragazzi passiamo alla grafica Allora ci mancano esattamente due capannine per completare l'obiettivo distruggi 10 capanne Abbiamo completato il 99% coi domatori il 100% solo barbari e l'attacco 400.000 risorse totali Quindi ci mancano da fare 3 barbarini da distruggere da fare 7 stelle da fare più di 2500 di nero Quindi niente ragazzi vi lascio la intro che è nuova spero vi piaccia E niente ci becchiamo al villaggio Buona Hola 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 a tutti ragazzi Eccoci nel villaggio ragazzi andiamo subito a cercare il villaggio da attaccare Punteremo alle 3 stelle al nero e ad uccidere qualche re barbaro Quindi ci becchiamo appena trova il villaggio Ragazzi io attaccherei questo perchè c'è il re barbaro abbastanza esterno e c'ha tanto nero E portiamo a fare le 3 stelle Allora attiriamo il barbaro Perfetto buttiamo le truppe del clan che sono arcieri che fanno sempre veramente utile Distruggiamo il re barbaro così Perfetto dai muori re Buttiamo altre due cose Perfetto Morto Quindi adesso possiamo entrare felicemente con i giganti da qui Qui ci sono le capannine che adesso ragazzi prendiamo subito immediatamente Bravi Entrate Buttiamo altri due spaccamuro che entrano lì Qui mettiamo questi E poi buttiamo il coso come si chiama l'angelozzo Allora una capannina presa Prendiamo anche l'altra Così almeno abbiamo completato l'obiettivo Bravissimi Perfetto ragazzi Le capannine sono andate Lì ci sono delle truppe del clan che rompano le palle Però vabbè buttando questi qui buttiamo i reali che fanno sempre comodo Quindi ragazzi adesso puntiamo al nero e alle 3 stelle I giganti sono lì Magari adesso ragazzi gli mettiamo una cura Così Perfetto Così si ricurano tutti E abbiamo qui arcieri da buttare Così almeno fanno percentuale Porca troia però Il re li scivola i tre quarti d'ora per uccidere un castello Maledetto lui Maledetto Usiamo l'abilità della regina Così distrugge tutta questa roba qui Ora arrivano i cosi in gran quantità Non abbiamo più tempo Abbiamo 28 secondi Dai Che dobbiamo fare le 3 stelle 97% Ce la faranno i nostri eroi E si ce la facciamo ragazzi 3 stelle perfette Prese Benissimo Quindi ragazzi abbiamo quasi preso 700 di nero 199 per la precisione Niente ci becchiamo al prossimo villaggio Dopo Ragazzi allora Praticamente questo potrebbe essere fattibile Perché ha un casino di nero Ha il re barbara Municipio livello 10 di merda E praticamente ragazzi Mancano 5 stelle Per concludere L'obiettivo Delle 15 stelle Manca esattamente 1500 di nero E mancano esattamente I due re barbari Quindi direi di attaccare questo Fargli 3 stelle O meglio Almeno 2 E incularli tutto Allora nelle truppe del clan Non c'è niente Quindi partiamo Molto spudoratamente Da qua giù Guardiamo un pochino Dove vanno I giganti Di qua Cosa sta succedendo Il re barbaro Sta prendendo le mazzate Fra pochino Attiveremo l'abilità Anzi Adesso La attiviamo Gli buttiamo Un po' di Barbarozzi I giganti Ovviamente Vanno per i cazzi Loro Come sempre Buttiamo una cura Allora Buttiamo un po' Di arcieri Che vanno dentro A prendere il nero E magari A distruggere Oh cazzo Stavano per morire Allora Guardiamo un po' Il nero L'abbiamo quasi preso tutto Ma va bene Così almeno Completiamo L'obiettivo Ne manca veramente poco Stiamo prendendo La seconda stella Not bad Mi dovete ammazzare Il re barbaro Mi dovete ammazzare Questo re barbaro Del cavolo Bravissimi Ora mi ammazzate Il re barbaro E poi dopo usciamo Bravi Ammazzatemelo 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 Che manca poco Dai Perfetto 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 Quindi usciamo Anzi Cosa possiamo inculare Buttiamo questi arcieri Così Alla random Ok ragazzi Praticamente abbiamo fatto Due stelle Nel prossimo Villaggio Se facciamo Tre stelle Prendiamo il nero Prendiamo 500 di nero Abbiamo finito Praticamente gli obiettivi Con tre attacchi Di anticipo Quindi ci becchiamo All'ultimo villaggio Quindi a dopo ragazzi Ok ragazzi Eccoci nell'ultimo villaggio Allora rifacendo i calcoli Mancano esattamente Due stelle 399 di nero E un re barbaro Da uccidere Quindi Ho già trovato il villaggio Devo soltanto capire Da dove attaccare Che mi sembra Un ottimo punto Qua per attaccare Sperando che non abbiano Le truppe del clan Ecco Porco Due Sì C'è la valchiria Che palle Che palle Perché c'è la valchiria No ma ti spiegami Veramente Dove cavolo Hai visto La valchiria C'è No Spiegamelo Perché Io non la vedo Proprio Cazzo C'è Se c'è Vai a comprarti L'occhiali No non c'è la valchiria Non spacca muro Va affanculo Mi sembrava una valchiria Manca il barbaro Che è lì E più il nero Che dovremmo Prenderlo tutto Abbiamo buttato tutto Perfetto Ecco Giganti intanto volano Meno male il re barbaro È entrato dentro L'angelo creperà Malamente Buttiamo una cura Perfetto Re barbaro contro Re barbaro Molto bene Molto bene Molto bene Dai Aralo Veloce Distruggilo Completamente Proprio fallo fuori A bestia Su 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 Perfetto Perfetto ragazzi Ultimo Re barbaro Morto Molto bene La regina Chissà dov'è Ora mi serve Percentuale A bestia Mi serve anche il nero Allora partiamo Da qua giù Che fanno Percentuale Perfetto Una stella fatta Attiviamo l'abilità Del barbero Che mi prende Tutto il nero Bravissimo Porca troia Tac Tac E poi abbiamo finito Attiviamo l'abilità Della regina Che non so dov'è Dove cazzo è ragazzi La regina Ok Perfetto ragazzi Perfetto ragazzi 51% Fatto Terminiamo la battaglia Zac E abbiamo Completato ragazzi Tutti gli obiettivi Con tre Attacchi di anticipo Quindi ragazzi Finisce qui Mi raccomando Di scrivermi gli obiettivi Tanto adesso apparirà la grafica ragazzi E vedete tutti gli obiettivi Complicati Fatemi più obiettivi Difficili Perché se no ragazzi Li completiamo subito E niente Lasciatemi un bel pollicione Superiamo i 250 like E ci vediamo al prossimo video Da mattini è tutto Bye Ho fatto il verso di Stepney Perché ho appena guardato Un video di Stepney LOL